mister buongiorno e abbiamo visto un po di miglioramenti sul piano del gioco nelle ultime due gare non sono arrivati tanti punti domani alla gara in cui arrivano i punti che aspettiamo ok buongiorno a tutti allora è sicuramente da dal mio arrivo abbiamo ottenuto poco rispetto a quello che può essere magari ecco la ciccia no quindi i punti che poi ci occorrono perché sono sono la vita però dall'altra parte ho visto soprattutto nelle ultime tre partite è una crescita una crescita di gioco una crescita comunque di saper stare in campo di trovare quello che può essere magari accogliere parti un po più stretti e effettivamente è sotto quell'aspetto anche del ritmo sono sono soddisfatto naturalmente questo non basta è inutile girarci intorno noi parliamo sempre di essere magari meno meno belli e più pratici e ottenere di più rispetto magari a un gioco carino che poi alla fine ti dà poco domani ragazzi ci giochiamo una partita che dire che la vita è poco no perché abbiamo la possibilità di chiudere in casa davanti al nostro pubblico e essere favoriti anche da squadre che lottano per lo stesso nostro obiettivo che giocano fuori casa e quindi domani c'è poco da da girarci intorno c'è un risultato e quel risultato si va a prendere se c'è una prestazione gagliarda una prestazione e con carattere di una prestazione da uomini una prestazione da giocatori che sanno riconoscere il pericolo il più grosso problema nella tua gestione è l'emergenza perché hai giocato cinque partite con gli uomini contati per ancavilla addirittura penso eravate in panchina in quattro o cinque roba del genere domani c'è ancora questa emergenza a parte rientro di di volpicelli che potrebbe darti però una novità in avanti no perché domenica hai schierato mungo che non è una seconda punta colpicelli potrebbe essere molto più utile in questo modulo del 4 4 2 rispetto magari a mungo sì purtroppo ne parlavamo prima no e il mio trend è stato sicuramente un trend rincorso da tante da tantissime defezioni e dalle squalifiche agli infortuni più o meno gravi quindi ho poca scelta ho poca scelta rispetto magari ecco a a delle idee che magari in qualche modo vorrei che la squadra percepisse e quindi ecco domani siamo da capo a 12 rispetto alla partita francavilla abbiamo recuperato soltanto emilio e che è un giocatore fortissimo a cui e su cui io punto tanto quindi credo che emilio in giornata e motivato possa essere il valore valore aggiunto di questa squadra e della categoria per quanto riguarda altre defezioni importanti perché luca ricci e oggi non si è allenato per un virus intestinale stringere ai denti assolutamente perché è il nostro capitano è un mio uomo e quindi andiamo avanti con chi abbiamo e i 10 11 12 che scenderanno domani in campo faranno del tutto per regalare a loro stessi alla società e a chi poi ci seguirà i tifosi straordinari un buon natale mister buongiorno a francavilla quando la vederbese è riuscita a trovare il pareggio e l'inerzia della gara sembrava andare a suo favore poi non è riuscita la squadra a fare sua la partita è però una cioè si è riproposto in varie altre partite secondo te è di peso da una personalità di carattere o fisica non credo fisica perché fino alla fine dopo il pareggio dopo il 2-1 subito la squadra è tornata ad attaccare credi sia una questione di carattere o di personalità come diceva Marotta dopo la partita con il potenza grazie è una fragilità è una fragilità mentale a questo punto perché giocatori forti non ne abbiamo cioè giocatori che comunque hanno tante partite in categoria e il gol preso sabato domenica è l'emblema è quello che può essere il discorso che è appena fatto racchiuso e su difesa schierata e palla aperta è una lettura facilmente da fare soprattutto per gli uomini che poi erano schierati in campo quindi diciamo questa è proprio una fragilità dove loro nel momento in cui c'è una minima percezione di pericolo casca casca al pero e e quindi questo è un peccato perché poi la partita è stata fatta la partita è stata fatta è stata giocata bene secondo me nel momento in cui superiamo quei 10 minuti l'inerzia può cambiare a nostro favore però poi alla fine vedi sì ma sì ma alla fine parliamo sempre di zero punti prestazione carina e a casa con la coda tra le gambe buongiorno mister visto la situazione degli degli indisponibili credo che in questa settimana lei dal punto di vista tattico abbia detto poco o nulla è più importante forse è stato importante motivarli dal punto di vista mentale sì abbiamo abbiamo parlato abbiamo parlato con i ragazzi come capita da un mese e mezzo a sta parte in cui comunque sono subentrato la cosa che a me fa sperare no forse magari sono anche sai un allenatore visionario un allenatore che si illude magari sì si può dire ancora con poca esperienza ma con grandissima esperienza in questo in giochino da calciatore è che i sguardi sono veri cioè i sguardi dei ragazzi sono sono diretti sono di chi percepisce il pericolo e di chi vuole tirarsi fuori dal pericolo di chi crede in quello che facciamo e quindi io ripeto e magari mi direte questo è matto no io ci credo tantissimo ci credo tantissimo anche domani io sono sicuro che i ragazzi 11 12 che andranno in campo faranno la prestazione l'unica cosa che ho timore dentro di me è che magari alla prima difficoltà possano sbragare è questo dice mister ma tu che fai alleni soltanto la tattica la tecchia la e la il carattere no anche quello però se non scatta il loro ragazzi se non scatta quella quella voglia di tenere l'osso in mezzo tenti frina alla fine e non ci vado io in campo capito non ci va lo staff in campo quindi io chiedo veramente ai ragazzi di credere fino alla fine di non scoraggiarsi mai neanche nella nella nell'errore individuale del compagno anzi di aiutare credere continuare a coltivare quello che può essere questa capacità con il recupero di emilio e e anche di duffizi penso no simone rientra da un influenza però ieri si è allenato oggi si è allenato quindi quindi io credo che possa essere un cambio altre alternative comunque che non lo sacrificherai come seconda punta e con duffizi a centrocampo nei quattro sì o due due sicuramente giocatori da da poter utilizzare no oppure da ruotare e poi per il resto degli under bravi che sono lì pronti e vediamo insomma di pescare un jolly noi conosciamo bene questo giuliano abbiamo affrontato nella prima di campionata in coppa italia la squadra è quella al modulo è quello quindi diciamo in teoria la partita già la possiamo aver letta in un certo modo preparata bene lo conosciamo sappiamo punti deboli punti forti del giuliano studiata al massimo io sono forse maniacale queste cose non ci dormo la notte quindi abbiamo quello staff e analizzato ogni minimo giocatore particolare di questa squadra è una squadra che sulla falsaria del francavilla fontana che ha dei quinti più forti è una squadra di grande ritmo di grande entusiasmo una squadra con sette undicesimi dello zoccolo duro della serie d quindi una squadra che si conosce a memoria e servirà servirà la migliore prestazione ma non lo dico tanto per dire è una squadra che va affrontata nelle migliori condizioni per fargli male con atteggiamento giusto con gamba con ritmo con tattica tecnica ecco palle